Una firma per salvare la chiesa di Santa Maria degli Angeli di Aversa e l'iniziativa lanciata dal FAI, Fondo Ambiente Italiano, nell'ambito dei luoghi del cuore, per recuperare opere d'arte che versano in uno stato di degrado e di abbandono. L'iniziativa è stata presentata presso la sede dell'Ordine dei Duttori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli Nord. La chiesa di Santa Maria degli Angeli, una chiesa settecentesca di grande valore artistico e culturale, dal 2015 rientra nel patrimonio del Tribunale di Napoli Nord e si trova proprio a fianco all'ingresso degli uffici giudiziari. Fino al 1933 la chiesa era stata ufficiata dalla confraternita del Gonfalone per poi essere affidata all'ospedale psichiatrico giudiziario. Negli anni 80 invece era stata spesso utilizzata per matrimoni di guardie carcerarie, ma con il declino degli OPG anche la chiesa aveva avuto la sua decadenza. Nel momento in cui le istituzioni vanno verso l'arte, vanno verso il recupero del territorio e delle bellezze del territorio, è sicuramente una manifestazione di consapevolezza del passato di quel territorio. Noi sappiamo che la cultura è lo strumento migliore per combattere le mafie. Si tratta della chiesa di Santa Maria degli Angeli che è stata acquisita al Ministero della Giustizia e che sicuramente necessita di un intervento importante perché possa sorgere a nuova dignità. Devo dire che sin dal momento in cui unitamente al procuratore c'è stata affidata questa chiesa, ci siamo adoperati per poter garantirne quantomeno una prima riapertura, un primo restauro. Devo dire che ci sono stati molto vicini sia il provveditore alle opere pubbliche sia la sovrintendenza e oggi grazie al FAI siamo proprio in attività per poter recuperare tutti quei fondi che sono indispensabili per dare quantomeno un primo decoro e consentire un'apertura della chiesa stessa. Un'iniziativa questa che rappresenta il connubio sia tra le diverse istituzioni che insistono sul territorio sia tra le associazioni. L'ordine dei dottori commercialisti vuole essere protagonista, vuole essere vicino al territorio, vuole essere il punto di riferimento del territorio. Questo è un momento nel quale la nostra professione sta discutendo di riforma del 139 ovvero della legge che regola la nostra professione. Naturalmente il ruolo del dottore commercialista di oggi deve essere un consulente a disposizione a 360 gradi della collettività e soprattutto nell'ambito del recupero dei beni culturali come in questo caso si possono aprire tante strade per un nuovo sbocco professionale per tutti i colleghi. Quindi l'ordine se da una parte partecipa a questo progetto per essere vicino alle istituzioni, dall'altra parte vuole segnalare ai colleghi che nel recupero dei beni artistici, culturali e storici vi sono grandi opportunità di lavoro, grandi opportunità che naturalmente vanno coltivate e bisogna anche in questo caso ottenere delle specializzazioni. In un anno un'iniziativa così importante legata ai luoghi del cuore che è cominciata nel 2003 e che è aumentata talmente tanto che adesso si creano comitati, gruppi e ho visto stamattina qui un'idea ben precisa di come organizzare l'attenzione, il coinvolgimento della città e non solo. Qui c'è l'università, sono coinvolte la FIDAPA, il Lion, naturalmente l'ordine dei commercialisti con la capacità che avrà di penetrare nel territorio insieme al FAI, noi ci aspettiamo tra due anni e speriamo di venire a festeggiare il grande risultato. E' importante per l'identità di un territorio, di una popolazione, di tanti abitanti che hanno radici culturali, ambientali in un passato che è vivo, non è solo di memoria, è vivo anche perché è un'energia, è un potenziale per riscattare, non l'immagine di più, per riscattare una voglia di vivere con passione e con testimonianze d'arte. Grazie a tutti.